Si rinforza il 118 di Pescara con 5 nuove ambulanze che serviranno per migliorare ulteriormente il servizio emergenza urgenza grazie anche alle sofisticate dotazioni presenti all'interno dei nuovi mezzi e intanto potrebbe tornare a breve in funzione anche l'elisuperficie dell'ospedale civile di Pescara. Sì, è un servizio che sicuramente avrà un grosso vantaggio perché avremo 5 nuovi mezzi che si andranno ad aggiungere a quelli già in possesso dell'ASD e quindi copriremo un territorio maggiore con maggiore efficienza e maggiore efficacia. Sono tutti modelli a uno, cioè medicalizzati per il soccorso avanzato, dotati di più moderne tecnologie quindi è un post avanti veramente per il soccorso per la popolazione che ne dovesse aver bisogno. Quasi 100.000 accessi l'anno, siamo il tredicesimo pronto soccorso d'Italia quando pensiamo a quelli che sono le immaginazioni collettive più importanti ospedali tipo Niguarda, Le Molinette, il San Raffaele, Olgemelli, sono tutti dietro a noi come numero di accessi quindi veramente una struttura importante che serve non soltanto alla provincia di Pescara ma essendo sede ABB di trauma team di tutto l'Abruzzo quindi tutti i pazienti più gravi confluiscono da noi. Sicuramente sono mezzi che vanno ad ampliare il nostro parco mezzi della ASL di Pescara del 118 e dall'opportunità di lavorare meglio a personale in maniera molto migliore considerando pure che queste ambulanze sono state dotate dei migliori accessori, dei migliori apparecchiatori elettromedicali adesso esistenti in commercio oltre anche al software della centrale operativa che interagisce con queste ambulanze tramite dei tablet che hanno la possibilità in pratica di gestire meglio il mezzo con tutti i dati che occorrono in merito all'intervento e anche la geolocalizzazione del mezzo nel momento istantaneo ogni 30 secondi sappiamo il mezzo dove si trova. A margine della consegna delle ambulanze al 118 questa mattina il manager della ASL pescarese Armando Mancini finito nell'occhio del ciclone del centro-destra che si aspetta un suo passo indietro ha preferito non commentare. In verità c'è una fase che si chiama di contraddittorio in cui gli uffici regionali danno una valutazione in punteggi di un operato e poi la norma vuole che noi si faccia un contraddittorio cioè si facciano delle contraddeduzioni che dureranno 20 giorni, un mese all'esito delle quali poi la giunta valuterà sulla base dell'istruttoria fatta dagli uffici regionali dove è la ragione e dove è meno quindi diciamo che la questione è ancora aperta. Le altre considerazioni le lascio a voi. Ma le hanno chiesto ufficialmente un passo indietro? Guardi, quando si è insediata questa giunta e hanno chiesto un passo indietro a tutti coloro che erano stati nominati dalla precedente amministrazione. Adesso ci sono nomine che sono nomine che si chiamano la spoil system quindi che dipendono e ci sono altri che sono contratti di lavoro qual è quello che io ho.